Alla sfondo alla storia di Dina, uno degli ultimi migliori, a raccogliere i saperi di generazioni di allevatori e casali di vita. E' ancora in agguità ed è il più anziato di tutta la tua. E' importante come siamo per la cagliata, è importantissimo. Perché non c'è un materiale, perché sono molto comune di tutto il grano, ma proprio per fare il formaggio all'inno. No, mi manda. Fare il formaggio in noga non è come lavorare in un caseificio. Qui non ci sono strumenti di precisione, si fa tutto a mano e a occhio, seguendo l'esperienza e l'istinto. Ogni gesto si ripete sempre uguale ed ogni volta diverso. Perché il latte crudo è un alimento vivo e le giornate non sono mai le stesse. Ogni pasco ha le sue erbe e in ogni forma di asiano, mezzano, stravecchio, do, di montagna. Si ritrovano i profumi e le emozioni di questi uomini. E' un mondo che rischiamo di perdere. Venite a gustare queste eccedenze almeno una volta qui in Malta. Secondo la scienza, risulta la bellezza dell'essere umano impiega 6 secondi per innamorarsi. Noi ti vediamo 6 secondi per innamorarsi. Noi ti vediamo 6 secondi per innamorarsi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.